Il collegio si è ritirato per decidere sull'ammissibilità degli interventi, il professor Sinagra ha forzamente attaccato e lo abbiamo qua, ce l'ho qua adesso con un colbacco che smentisce clamorosamente le sue idee politiche il professor Sinagra indossando un colbacco che le dona, sta proprio bene Colbacco me l'ha dato Zelensky Allora io volevo portarti i complimenti di tantissime persone che nel mio canale hanno elogiato il tuo intervento che ho raccolto in diretta, credo che tu abbia dato dignità a un collegio di difesa che forse non ne aveva bisogno però un piccolo ritocchino ci voleva, come vedi la situazione adesso? E come la vedo, come la fisica ha una tale Donatella Stasio che si presenta come responsabile della comunicazione della corte costituzionale ha un suo articolo pubblicato ieri sulla stampa di Torino in cui ha detto che i vaccini sono una cosa bellissima quindi è già un'anteprima della sentenza tu farei perché quando ho accennato questo naturalmente mi hanno azzittito ma stai tranquillo perché io riprenderò il tuo attacco in maniera ancora più pesante quindi se lo meritano